Il kit del consumatore per ridare l'infa al centro. L'assessore tiene Lucarelli in carica alla demoscopica per sondare abitudini e preferenze. Un'indagine, attenzione, attenzione a una scossa di terremoto, si è verificato in questo momento. Una grossa scossa di terremoto in questo momento ha investito la città di Fano. Attenzione, cerchiamo di vedere che cosa è accaduto. Io telefoniamo subito alle squadre che ci possono dare delle informazioni. È stata veramente una scossa molto, molto grossa. Sì, in questo momento è calmato, però ci possono essere anche scosse di assestamento. Eccolo un'altra. Io vado via. Usciamo? Che facciamo? Interrompiamo? Interrompiamo un attimo la rassegna stampa. Grazie. 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 Vai, sei in onda. Ecco, dopo quanto è avvenuto, chiediamo opportuno sospendere la rassegna stampa questa mattina. Mettiamoci al sicuro e poi vi relazioneremo quanto sta accadendo a livello informativo. Scusate per quanto è avvenuto, ovviamente non è colpa nostra e quindi ci risentiremo. Grazie per l'ascolto. Grazie.